Siamo qui a Fiera di Roma con il signor... Io sono Daniele Bandini e rappresento la Airbag Professional, un'azienda specializzata sui sistemi di sicurezza, in maniera specifica gli airbag. Cosa ha portato in Fiera? Abbiamo portato delle giacche contenenti l'airbag e anche dei gilet molto pratici da poter utilizzare anche tutti i giorni, magari in città, con il massimo della protezione per la parte vitale della persona nel caso anche di un banale incidente o di un incidente molto importante, quindi per evitare che la persona subisca dei traumi veramente invalidanti. Ci puoi dire due parole sul Moto Days? Moto Days è una manifestazione molto importante, è il secondo anno in cui siamo presenti. Devo dire che ci sta dando una grande soddisfazione, anche quest'anno abbiamo visto una crescita a livello di organizzazione e anche a livello generale di attività per quanto riguarda il rivolto sia a noi espositori ma anche per il pubblico. Sicuramente saremo presenti anche il prossimo anno, siamo rimasti molto contenti, molto soddisfatti. Avete dei progetti per il prossimo anno? Sì, ognuno di noi, qualunque azienda ha dei progetti per poter comunque crescere ed avanzare e andare avanti. Il nostro obiettivo è quello di diffondere sempre di più e anche uno scopo sociale questo airbag per i motociclisti per far capire e far avere la consapevolezza che c'è la possibilità di portare quasi a zero il rischio invalidante derivato appunto dai sinistri, dagli incidenti che possono accadere. Lo sappiamo benissimo che accadono purtroppo. Ci può spiegare come funzionano questi nuovi jobbot? Certamente, allora qui abbiamo il gilet base, quello che si può utilizzare come dicevo prima anche tutti i giorni su un banale scooter nella fase normale, non attivata e qua abbiamo la fase dove viene simulata un'attivazione. Come funziona? Allora, questa giacca è semplicemente un gilet molto leggero e dove viene installato una carica di CO2 e all'interno di questo gilet vi è una parte, una specie di camera ad aria, chiamiamola così, che si attiva e si gonfia nel momento in cui il motociclista viene sbalzato dalla moto stessa e con una forza superiore ai 30 kg questa parte meccanica si attiva staccandosi appunto questo elastico direttamente dalla giacca, questo elastico viene collegato alla moto. In quel momento, in un decimo di secondo, ecco che come si trasforma. Si trasforma facendosi di tutelare la parte anteriore, la parte toracica, cercando anche appunto di evitare dei traumi al fegato, la milza, al pancreas e invece nella parte posteriore abbiamo appunto questa zona che viene protetta, quindi la parte inferiore della colonna vertebrale, le reni e la cosa primaria è che nei primi 80 millesimi di secondi la prima cosa che viene isolata è la testa, il collo per evitare fratture appunto nel collo oppure i classici colpi di frusta nel caso fossero anche danni lievi e successivamente la colonna vertebrale, quindi la parte vitale è qua. Nella zona centrale la colonna vertebrale viene isolata completamente e fatto sì che nessun colpo possa arrivare direttamente su di essa perché la forza viene distribuita in queste due parti laterali e pertanto la sicurezza sta proprio qui di far sì che la colonna vertebrale non subisca traumi. Ecco, questa è la parte diciamo più importante perché tante persone che perdono la mobilità derivano proprio anche dal fatto di subire traumi in questa zona e il motociclista purtroppo ne fa parte, fa parte dei rischi di questo piacere di andare in moto. Siamo presenti su Facebook alla pagina di Airbag Professional abbiamo anche un sito internet, abbiamo anche un e-commerce dove è possibile sia vedere i prodotti e anche acquistarli direttamente il nostro sito, l'indirizzo è www.airbagprofessional.com e lì si può vedere tutto, si può trovare tutti i tipi di prodotti c'è la possibilità di comunicare direttamente con noi la possibilità anche volendo di personalizzare o la giacca o il gilet noi abbiamo tanti prodotti, oltre a questo abbiamo anche le giacche per i touring abbiamo le giacche per i custom abbiamo tanti tipi per le donne, per le signore, per anche i bambini abbiamo anche le giacche airbag proprio per gli adolescenti quindi abbiamo una vasta gamma proprio rivolta solo esclusivamente alla sicurezza del motociclista grazie a tutti